42 L-E-R-E-S L-E-R-E-S Dude Mi sono stancato da chi è in mezzo ai fantasmi. Questi alibi chi sono? Per la persona che c'è più. Ma guarda che aveva 20 e tante riporte morti indietro. A me va più di prendere ordine. E ora che sta città passa di mano. Infatti sono entrato in pulizia per rifammare la vita. Lo sto più al servizio tuo. Che cosa ti ha fatto pensare di poter decidere? E ora sempre io decido che l'ora di metterci un altro fantoccio al posto tuo. Prima il problema erano i miei padri, i due padri, i miei fratelli. Ma non ci stanno più, il problema ce l'avevamo stessi. Il personaggio che interpreti di Cinaglia è probabilmente quello che ha mutato di più nel corso della prima stagione. parte da... Fa un po' all'inizio il personaggio quello diciamo più ligio al dovere e poi si perde. Dobbiamo aspettarci anche una diversa parabola durante la seconda stagione oppure ormai è indirizzato verso la spietatezza della strada che ha intrapreso? Oddio questo non l'hanno mai chiesto. Non c'è nessuno di spoileraggio. Si è sempre dato per ascoltato che una volta che... Posso dire che comunque il percorso in genere non è che poi se da eticamente corretto ti decidi di entrare, andare verso un'altra direzione diciamo è raro che poi ritorni a essere, almeno credo, quello veramente avrei avuto difficoltà a interpretarlo. Cioè a fare tipo andata di ritorno e andata eccetera. No però magari, che ne so, uno spiraglio ancora di quella umanità. Diciamo che comunque, beh, in Cinaglia quello che c'è è che cerco di mettere sempre anche fino a che è possibile poi senza poter dire altro è una lotta interiore, diciamo un giudizio che lui continua a darsi sempre e che comunque lo turba e quindi che cercavo appunto di... era quello che pensavo mentre aveva sempre fatto Cinaglia insomma questa rigidità, questa fermezza apparente ma dentro in realtà una grande diciamo problematica sua cioè proprio a vivere questa situazione ma probabilmente non perché il giudizio lo fermi ma perché comunque è come se tu hai dei rigurgiti di un passato che eri e quindi ti guardi allo specchio cioè molto banalmente come può capitare a ognuno di noi quindi questa cosa continua quasi bipolare dentro di lui crea questa cosa un po' un di... che è un po' una cosa un po' un'altra anche se nettamente lui diventa in un certo modo quindi sì cerca comunque un po' ancora anche il bene di Roma insomma non solo il suo... beh il suo bene insomma è relativo insomma diciamo poi si vedrà più avanti ma... e invece per il caro vecchio samurai si parlava anche prima durante la tavola su della spietatezza appunto del personaggio io invece ho trovato durante la prima stagione che è probabilmente sì il cattivone quello che in qualche modo tiene il redini del potere a Roma ma è anche quello che forse dato un passato molto più... più... remoto all'interno della criminalità forse ormai la vive anche con più filosofia no? e cerca di arrivare alla... all'omicidio eventualmente o comunque al delitto solo quando proprio strettamente necessario sì è interessante questa cosa filosofia non lo so diciamo che ha affinato proprio le proprie armi diciamo sa benissimo che che meno si fanno cose eclatanti meglio è insomma sì sì questa è una lezione che lui ha evidentemente imparato e che forse lo rende appunto così solido nel suo status di re di Roma la politica la controlliamo noi c'è chi cade e c'è chi prende il suo posto le cose cambiano prima o poi noi torniamo per comandare noi ci dobbiamo rimettere insieme noi tre contro tutti te donna di dove? ci siamo messi contro gente potente sai che cambia tutto sai che cambia tutto